Ecomondo 2015, diciannovesima edizione, un appuntamento importante per molti soggetti e mette in realtà in connessione ormai da 19 edizioni. Beh direi che è stato un anno pieno di espositori perché abbiamo visto che quasi tutti gli spazi a disposizione sono completati, leggermente più bassa forse l'affluenza dei visitatori per lo meno nei primi giorni, speriamo di recuperare oggi con una forte affluenza. Qual è lo stato dei veicoli fuori uso attualmente parlando appunto di sostenibilità e di riciclo? Beh il problema è estremamente semplice, con le materie prime e i prezzi attuali è sempre più difficile ovviamente trovare collocazione per i materiali ricicrati anche perché il costo di riciclo di questi singoli materiali è superiore al valore delle materie prime. Grazie.